Signori Zero, serie italiana su Netflix, 8 puntate molto corte, molto bella avevo visto la prima puntata e ve l'avevo fatto un mini video posso consigliare tutta la serie, bella, veloce, poi si apre la forbice è interessantissima e porterà sicuramente un'altra stagione speriamo perché è veramente consigliata voto 8, grazie Italia, grazie Netflix, ciao ciao